Ma cosa è successo? Jasmine Carisi ha asfaltato Perla Batiero. Proprio lei, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha lanciato delle frecciatine proprio a Perla. Insomma, la bellissima figlia di Albano ha ricondiviso un tweet di un utente che, come tanti altri, hanno messo in evidenza le differenze nella padronanza della lingua italiana tra il piccolo Nini, figlio di Amanda Lecciso, e Perla Batiero. Ricordate, Nini è stato ospite nella puntata del grande fratello per abbracciare la sua cara mamma e ha stupito tutti per la sua dialettica spigliata. Infatti, il tweet diceva Nini Palla, l'italiano meglio di Perla. Insomma, per la povera Perla Batiero non è stata solo la frecciatina di Jasmine Carisi ad attirare l'attenzione, ma anche quella del conduttore Alfonso Signorini che ha parlato anche lui delle complicazioni che a Perla nelle squimmersi in un perfetto italiano. Insomma, la ragazza è spesso sotto attacco. Proprio per questo, anche durante il reality, però Perla Batiero, come sappiamo, è arrivata ai cuori degli spettatori, vincendo il grande fratello. E voi, come la pensate di Perla Batiero? Scrivete qui sotto il video.